Cosa sera siamo venuti in tre, stiamo presentando un progetto da Roma, presentando un progetto che ho realizzato con la mia etichetta Gas Vintage, si chiama Gas Vintage Super Session e hanno partecipato diverse persone all'organizzazione di questa continuation, fra cui Roberto Vellera, De Vero, Giancarlo Roberto e Siamo venuti in tre presentati, poi c'era c'era, alla fine c'era una notte, c'è anche Marco Fabio che dopo si arriva a De Parco, e la figura mia è più sola per tutto questo, ok, non so se non c'è spia.